Cari amici telespettatori, benvenuti a questa speciale puntata chiamata Raffaella Belli, perché come sapete ogni 18 giugno si festeggia il compleanno di una grandissima della nostra televisione che è andata allo studio a qualche tempo, però c'è sempre come è normale che ci siano sempre le persone anche se noi non la vediamo, stiamo parlando della nostra grandissima Raffa nazionale che avrebbe compiuto 4 volte 20 più 1 anni, quindi colgiamo un'occasione con questa prasmissione del 18 giugno per fare gli auguri a Raffaella, ma farlo nella mia era più semplice possibile, e cioè in musica, quindi facciamo partire tanti auguri con testo e musica di Gianni Boncompagni e Zino Verde, amici iniziamo questa puntata con tanti auguri di Raffaella Carroa e quindi come direbbe Raffaella, sigla! Se per caso cadete il mondo, i giorni scopo un po' più là, sono un cuore pagabondo che di regole non ne ha la mia vita è una roulette, i miei numeri più li sai, il mio corpo è un amo che dove tu ti addormenterai ma girando la mia terra io mi sono contenta che non c'è odio e non c'è guerra quando nel tuo amore c'è com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore io sono pronta e tu tanti auguri tu, anche tanti amandia, tanti auguri tu, in campagna ed in città com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con che voglia tu e se ti lascia lo sai che ti fa, trovi un altro più bello, che problemi non ha e non c'è se volete cantate cu le ballate intre noi ma naturalmente mi ascolteremo ancora qualcuno il corte e la prima data ma il coletto è solamente la nostra scelta di abbastanza. Grazie per la visione! Grazie per la visione! L'importante è farlo sempre perché voglia tu e se ti lascia lo sai che ti fa, trovi un altro più bello. Che problemi non ha, trovi un altro più bello. Ed ora amici ci torniamo per una piccola pausa pubblicitaria per l'iniziatra la puntata di Intraschiamo Subito, ma poi torniamo subitissimo con un altro successo di Raffaella. Quindi aspettateci e non vi preoccupate. Ed eccoci amici, abbiamo ripreso la nostra diretta e ora tempo di un'altra canzone datata 1982 di Raffaella. Stiamo parlando della grandissima Ballo Ballo e quindi Amici Musica! Stiamo parlando della grandissima Ballo e quindi Amici Musica! Stiamo parlando della grandissima Ballo e quindi Amici Musica! Stiamo parlando della grandissima Ballo e quindi Amici Musica! Stiamo parlando della grandissima Ballo e quindi Amici Musica! Stiamo parlando della grandissima Ballo e quindi Amici Musica! Stiamo parlando della grandissima Ballo e quindi Amici Musica! Stiamo parlando della grandissima Ballo e quindi Amici Musica! Stiamo parlando della grandissima Ballo e quindi Amici Musica! Vanno, vanno, vanno nel mio castello, e quando c'è, quando c'è, quando c'è. Grazie. voglia di restare qui, voglia di ballare con te. Pallo, 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 non mi innamoro, pallo, 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 tu prigionera, pallo, 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 cavolavoro, che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è. Pallo, 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 saliva a zero, pallo, 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 sono un guerriero, passa, 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 passa su una terrazza, che cosa c'è, cosa c'è. Pallo, 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 da capo giro, pallo, 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 senza respiro, pallo, 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 invento un passo, che fanno qui, fanno qui, fanno qui. E ora, amici, siamo ritornati, abbiamo già ascoltato due brani di Raffaella, e quindi con il prossimo concluderemo il trittico, e poi parleremo ancora un po' di lei, perché c'è tanto da dire, è stata una grandissima regina della nostra televisione, i suoi programmi, da io, Agatha e tu, c'è canzonissima, mille luci, un milione di milioni, insomma, potremmo citarne tantissimi altri, le varie edizioni di Carramba, e tutto quello che abbiamo vissuto anche con voi in questi anni di Raffaella, e ricordiamo che questo è già il terzo anno che è volato lassù, e quindi ne sentiamo veramente la mancanza, ha fatto tutto, quindi ha fatto tutto quello che poteva fare, quindi ci ha po' a Raffaella, e su questo nessuno può dire niente. Detto questo, amici, salutiamo anche tutti gli altri amici che compiono gli anni, che passano però in secondo piano, perché comunque gli auguri già fatti a tutti gli amici di Facebook, a tutti gli Abotto, a tutte le altre, ed andiamo ancora con un brano di Raffaella, forse uno di quelli più rappresentativi, che è questo giro, lo facciamo, perché se lo richiedete in tanti. Un brano del 1971, che è la nostra anche sigla finale, ed è Tuka Tuka, amici, quindi per voi, signori, Tuka Tuka. Mi piaci Mi piaci Mi piaci Tanto, tanto Sempre incredibile, ma sono fatta di te Mi piaci Mi piaci Mi piace Mi piaci Mi piaci Mi piaci Mi piaci Ti voglio Ti voglio Ti voglio Ti voglio Tuka 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 Ducca, Ducca Ducca Ducca, Ducca Ducca si chiama Ducca 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 L'ho inventato io Per poter vivere Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci Mi piaci Mi piaci Mi piace Tanto, tanto Questo stranissimo ballo che faccio con te Ti voglio Ti voglio E ora amici, prima di concludere questa nostra diretta insieme Salutiamo con lei che ci segue dall'astruzione, Raffaella E diciamo che noi la pensiamo sempre E speriamo sempre che prendi per noi E detto questo, ho finito questa nostra puntata E ci risentiamo prossimamente, amici Ciao 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 Ciao